Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo nel terzo episodio della carriera con la Juventus di FIFA 19 questa è l'ultima volta che ve lo dico ma come sempre sono mai da solo ma con il mio cuscino perchè non ho detto per misurare la inquadratura e niente, spero che questa serie vi sta piacendo lasciate un bel like se vi piace ovviamente spero che vi piaccia e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto con la campanellina per non perdervi nessun video e seguiteci su Instagram ed esicinale non esiste più seguitemi toni.geraci.1999 la copia in perfetta 13 vi aspettiamo in tanti e niente, andiamo subito al gioco allora ragazzi come ho detto nello scorso episodio volevo prendere un regista tra virgolette ho provato per l'attima mi hanno massacrato quindi ho preso Modric che probabilmente arriverà a gennaio per forza e noi siamo nella quarta partita del campionato contro il Sassuolo quindi andiamo subito a giocarla primo pallone nostro allora canziero Emery Cian per Di Bala che ha fatto molto bene la scorsa partita Emery Cian Di Bala Emery Cian Di Bala Chris Mann Chris Mann prova il tiro arriva subito Murato Emery Cian per Chris Mann Chris Mann prova il tiro subito di nuovo Murato corso non alla grande Bernandeschi per Di Bala Di Bala chiuso da consigli prova a centrarsi Chris Mann prova il tiro ma centrale canziero per Bernandeschi Bernandeschi prova a fare la finita Bernandeschi prova il passaggio per Chris Mann e si porta in rete in gol all'ultimo minuto anzi gli ultimi abbiamo superato anche già il minuto di recupero ma ce ne sbattiamo perché noi siamo alla Juventus e ci possiamo permettere tutto fine primo tempo e iniziamo subito col secondo canziero prova a portarsi leggermente in avanti per Ronaldo Ronaldo e per Costa che prova ad accelerare il passo visto che lui è appena entrato ancora Costa Costa può vedere Chris Mann Chris Mann prova il tiro 2 a 0 2 a 0 e niente ragazzi tutto meritato tutto meritato già questa è la terza partita consecutiva che vinciamo anche se ancora non è finita la partita però probabilmente è ormai nostra finisce qui la partita 2 a 0 molto bene ragazzi andiamo con la seconda partita sperando di vincere anche questa intanto qua vediamo lo spettacolo probabilmente ci sarà la Champions ed ecco qui sono tribalenzia allora ragazzi proveremo a cambiare qualcosina per far riposare ovviamente i giocatori intanto ho cambiato Matudira a posto di Khedira poi ho levato Bernardeschi che ci serve molto per il campionato quindi sto provando a mettere Costa e ho levato Wisman per Mazzuic levo adesso anche Bonucci e Benatia e metto Rugani e Barzagli e niente iniziamo questa prima partita della Champions League intanto inizia il Valencia prende la prima palla ma subito già Dybala a recuperare la palla Mazzuic Ronaldo per Dybala Dybala ma continuano Ronaldo Ronaldo Provertiro 1 a 0 primo gol di Ronaldo in Champions League può fare una differenza in Champions League allora ragazzi mi scuso per i ultimi minuti di partita della prima partita ma ero convinto che la fotocamera era ancora accendita invece si era spenta intanto Ronaldo Ronaldo Provertiro Matudira viene difeso molto bene quindi gli ultimi minuti sarà senza senza la mia faccia diciamo ancora Mazzuic bloccato dal difensore sperando che adesso è acceso costa proprio un tiro al giro ma niente da fare netto tra le mani Manno smesso ancora in Valencia che si rende pericoloso ancora in Valencia per Rodrigo 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 prestato da De Ciglio De Ciglio prova la frase ma niente ancora no vuoi per Camino 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 per Pareco Palo Marlos fuori clamoroso è stato 2 minuti di De Pupole perché primo minuto se n'è andata a fanculo sono aspettati 2 minuti ci sarà la fine ed è il fine primo tempo Manzuvic Manzuvic può lanciare Di Bala e ci riesce Di Bala prova a fare il doppio passo prova a tirare il giro rete Cristiano Ronaldo e Di Bala che è Porta di Mantal con Grigua al 0 nella Juve in Champions League contro il Valencia a cinchantesimo andiamo così ragazzi dai ancora Di Bala che Valencia perde la palla Di Bala Di Bala Di Bala è ancora lui con l'errore del centrocampo del Valencia e di Bala di Amplofista con qualità e personalità ancora è Valencia in alta come Peril ferma tutto che non riesce a prenderla intanto Pareco Malos Malos per Gemiro non so come si pronuncia Gemiro per Vass Vass Peril intanto dice qui la Zeno per la Champions e niente ragazzi il video si conclude qui con queste due bellissime partite spero che il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e schiacciate al canale se ancora non l'avete fatto dimenticate su Instagram e troverete qui sotto in descrizione i link la prossima partita la gioveremo contro il Fosinone per adesso siamo primi con 10 punti e nel prossimo episodio vedrete tutto niente ragazzi quindi che dire bella e alla prossima per la prossima